Di colta, di colta dietro struttore, di colta, di colta, dove andate pubblico? Noi siamo qua e si vede il pubblico che apre gli occhi, mi sono già attrezzati. Bene, ponetevi tutti sul tappeto, posizione di massima raccolta, qui dovete urlare tutti, chi non ce la fa, ginocchi a terra. Non sente l'istruttore, quindi ricomincia. L'ultimo non conta, Maglietta Enrique. Sì, perché non urlavi? Contavi? Sì o no? Sì. Fammi sentire, vai. Fatelli tutti, forza, ora lui conta per tutti. Guarda lo zaino come ce l'hai, guarda. Eh, tirate le eccedenze. I piedi, guardate l'istruttore, di colta, veloci, veloci. Vuoi uscire? Ok. Forse mi la testate, vai, è stata la signorina. Allora, vai. Buon attenzione. Forza! Atta del paletto della gabbia, forza! Forza, forza! Giù le gambe dietro! Giù le gambe dietro! Le due, le due, le due in tre, bravo! Veloci nella gabbia! Traino avanti e guardate l'istruttore. Veloci, traino, togli lo traino. Veloci, veloci! 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 Talloni a terra! Schiena dritta! Petto e cuori! Talloni a terra! Due punti! Veloci! 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 Posizione di massima raccolta! Veloci! Contate, adatta la voce! Poi si è parata... Poi ci stava pisando. Vivo a scagliare il dottore Pronto veloci Prendete la cassettina con il braccio a dentro Veloci Andate sulla vostra posizione Cambio braccio Cambio braccio Due a la vostra posizione